Non discutere mai con il malato, ma mettiti d'accordo con lui. Non cercare mai di ragionare, distogli la sua attenzione. Non farlo mai vergognare, elogialo. Non cercare mai di dargli lezioni, rasserenalo. Non chiedergli mai di ricordare, aiutalo a ricordare. Non dirgli mai te l'avevo detto, invece ripetegli le cose con pazienza. Non dirgli mai tu non puoi, ma digli fai quello che puoi. Non esigere né ordinare mai, insegnagli. Non essere mai accondiscendente, invece incitalo o pregalo. Non forzarlo mai, bensì rinforzalo. Non si Вi alle giochi. Non si vittano.